Siamo molto contenti dell'accoglienza di Bari, che è sempre una città che ci dà grandissime soddisfazioni con il nostro tour. Quest'anno sono due le grosse novità, le Figuriniadi, che è questo torneo di giochi con le figurine nazionali, chi vince alle gare di lancio della figurina più in lungo, piuttosto che rispondere a un numero maggiore di domande che ha per oggetto il calcio, in particolare l'album Calciatori, accederà a una speciale classifica nazionale rispetto a tutte le piazze nelle quali abbiamo fatto il tour. In più, qui a Bari, grazie a questa bellissima location in Piazza del Ferravese, a Sala Murà, abbiamo questa mostra dedicata alla Bari. Quindi dal nostro archivio storico, che ha 54 anni, tutte le collezioni panini dall'inizio ad oggi, abbiamo estratto quelle che sono le immagini più significative dei calciatori e delle copertine che hanno ospitato la squadra della città. Oltre a tre gigantografie, nel vero senso della parola, che rappresentano tre grandissimi campioni della Bari. Dal portiere Luigi Pizzaballa, ex Atalanta, Roma e Milano, a William Vecchia, difensore di Milan, Cagliari, Spal e Como. Chi non ha mai visto almeno una volta le figurine di questi calciatori, o magari non l'ha scambiata con un amico perché era un doppione. Anche quest'anno si rinnova a Bari il successo con il tour Pagnini, che lancia la sua collezione, toccando tra le varie città anche il capologo pugliese. Una tradizione, quello dello storico album dell'azienda modenese, che non conosce età e che continua a raccontarsi sin dal 1960. A Bari il tour farà tappa oggi e domani nella Sala Murat di Piazza del Ferrarese dalle 15 alle 21. L'occasione sarà ghiotta per migliaia di appassionati delle figurine, di collezionisti, di scambiare figurine per completare l'album, giocare, partecipare a quiz, prove di abilità, con la possibilità di vincere numerosi premi e gadget. La novità di quest'anno è figuriniedi, il primo campionato italiano dedicato alle figurine. E le sorprese non finiscono qui. Molti giochi organizzati che hanno coinvolto grandi e piccini. Tra questi il figu quizone, dedicato a chi risponde al maggior numero di domande sul calcio e sulla collezione calciatori. Da non perdere anche il figu record, antenato del classico pioggia, per chi lancia le figurine più lontano.